Venire alla grossa, perciò, non è semplicemente ritoccare la roccia, ma è sempre di più il luogo nel quale noi dobbiamo e possiamo incontrare Dio, grazie per l'aiuto a noi. Grazie. Forza sempre di più essere presente e faccio presente, Dio stesso, con l'amico di noi. Non lasciamoci perciò distrarre durante questo tempo di preghiera. Diamo anche la gentilezza di Dio e di noi, per non lasciarci distratti, distratti, distratti. Questo è il tempo dell'incontro, il tempo dell'attività, dell'attività. Dio e di noi Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV2000 e il sito internet del Santuario. E con noi, per la preghiera, Sua Eccellenza Monsignor Francesco Alfano, Arcivescovo di Sorrento e Castella Mare di Stabia. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via e-mail o via telefono. Affidiamo tutti e tutto a Maria l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera la contemplazione dei misteri dolorosi. Primo mistero, l'agonia di Gesù nel Gezzemani. La preghiera di Gesù nell'Orto degli Ulivi è l'incontro di due volontà. La dichiarazione continua che tutto ciò che vuole il Padre lo vuole anche il Figlio. In questo sta l'amore, l'amore perfetto, che è l'atmosfera stessa del Paradiso. L'amore, infatti, consiste nel non vivere più per se stessi, ma per l'amato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. La pace oggi, il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi vi chiamiamo i nostri dettori, e a noi ci puoi effettuare la sua maniera. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Secondo mistero, la flagellazione di Gesù, la colonna è l'amore per l'umanità che tiene fermo a quella colonna Dio stesso. La sua carne non era diversa dalla nostra. Il sangue pulsava nelle sue vene come in tutti noi. Ma l'amore vince ogni cosa. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie a tutti, il nostro pane quotidiano. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave o Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il frutto del tuo seno Gesù, adesso è il frutto del tuo seno Gesù, adesso è il frutto del tuo seno Gesù. Terzo mistero, l'incoronazione di spine. Lì dove tutto sembrava una burla, si realizza la profezia, Cristo è il Re. Egli siede su un trono alto ed elevato, è la croce. Da lì vede tutti gli uomini e li tratta secondo la giustizia della sua croce. Una giustizia che è misericordia. Anche noi possiamo partecipare con la moltiforme delicatezza dei sentimenti della misericordia al mistero della regalità di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che mette a noi i nostri redditi, come noi li trattiamo ai nostri creditori, che non ci vuole senza solare, ma riferiamoci da un male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Quarto mistero. Il viaggio di Gesù al Calvario, carico della croce. Gesù ci ha dato un esempio perché, come ha fatto Lui, facciamo anche noi. Ha preso la Sua croce. Gesù è la via, la verità, la vita. Tutto ciò che avviene attorno a noi, avviene per noi. I passi da compiere, uno dietro l'altro, lungo questo itinerario, non sono altro che i gesti di amore che troviamo racchiusi nelle circostanze del nostro vivere. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Danci oggi il nostro Padre quotidiano, e mettere a noi i nostri debiti, come noi vi ricariamo ai nostri creditori. E non ci intupe l'interazione, ma riferiamo al mare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amine. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amine. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù muore in croce. Quel grido di abbandono di Gesù sulla croce ci rivela fino a quale punto Egli ha preso su di sé e ha sperimentato come propria la disunità tra gli uomini e Dio che il peccato aveva provocato. Il Padre, ricevendo l'estremo atto d'amore e di obbedienza del Figlio, ora può redimere gli uomini, risolvendo la separazione nel culmine di accoglienza della risurrezione. Padre nostro, che se nei Cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri detti, come noi rileviamo i nostri vettori, e non ci dure in tentazione, ma liberaci dal Madre. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per il Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra. Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e benedetto è l'amore dei nostri temi, come noi benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre Misericordiae, vita dolce, espes nostra salve. A te clamiamo, Gesù. A te suspiriamo, che menti semplente, in a lacrima rungare. Gesù, Gesù, benedetto è il fruttum ventris tui, Gesù, Gesù, benedetto è il fruttum ventris tui, Preghiamo con Madre Teresa. Ti ho trovato in tanti luoghi, Signore, ho sentito il battito del Tuo cuore nella calma perfetta dei campi, nel tavernacolo buio di una cattedrale vuota, nell'unità di cuore e intelligenza di un'assemblea di persone che Ti amano. Ti ho trovato nella gioia in cui Ti cerco e spesso Ti trovo, ma sempre Ti trovo nella sofferenza. La sofferenza è come il rintocco di una campana che chiama la sposa di Dio alla preghiera. Signore, Ti ho trovato nella terribile vastità della sofferenza degli altri. Ti ho visto nella sublime accettazione e nell'inspiegabile gioia di quelli la cui vita è tormentata dal dolore. Ma non sono riuscita a trovarti nei miei piccoli mali, nei miei banali contrattempi. Nella mia fatica ho lasciato passare in vano il dramma della Tua passione redentrice e la vitalità gioiosa della Tua Pasqua, e soffercata dal grigiore della mia autocommiserazione. Signore, perdonami, Signore, io credo, ma Tu vieni in soccorso della mia fede. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Madre della Consolazione, Santa Bernardetta, il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Accanto alla madre con grande fervor, la giovane prega e invoca il Signore. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. 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 Grazie. 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 Grazie.